Beh, sempre... Un dettaglio che fa la differenza, buonasera, tembolo a salvalaggio e condividere l'individuo. Sì, è più uno sport individuale, dunque... Un po' spartita, penso che insomma ci può essere, c'è molta adrenalina. Sarebbe un silenzio in casso. ...e tira fuori un po' di personalità che è una... ...e otto formazioni... ...in Europa ha fatto meglio a lei. ...quel palo... ...dell'entusiasmo sull'Inter. Vediamo. ...intersi... ...di domicilio, titolo, devo dire, geniale che ha inventato il nostro mitico... ...e quindi si doveva giocare. Si doveva giocare. E quindi è un episodio, doveva giocare. ...a vivere questi momenti oppure è un pezzo soltanto italiano della comunicazione italiana? Uno lo sogna tutta la vita, eh. Eh, te lo sogno tutta la vita. Eh, Ricci? Ecco, se evidentemente... No, per fare, voglio dire. Esatto. Sì, sì. Perché non c'è paragone, sai... E tra l'altro c'è tutto. ...per poter finire con Mattino... Io so benissimo dove sto, sto in un ambiente che è... ...vergognosa per chiederti... ...di fare una carriera lunga... ...seguirla, mi raccomando. Nazionali, in esclusi... ...avrebbe stato un vero dramma. Col cane. Eh, però il Carpello ha fermato il Napoli. L'ha fermato. Va bene, eh. Insomma, abbastanza morbiduccio. Oh, Carlo, Juventus Stadium e Melissa. L'esperienza, era rigore o no? Quello di Barcellona... Era rigorissimo, Carlo. Era rigorissimo. Era rigorissimo. Quando ero piccolo la accompagnavo, piangevo ogni volta perché era una parolaccia dietro l'alto. Lei che è più importante al mondo. Con rispetto per la tradizione. Con Zanetti. Io vorrei dire cose che continuerò a comprare all'Intershop. Va bene, ma al cuore non si comanda. A guardare l'ambiente, no, ma scherziate. E al telefono l'ambasciatore della Cina. Cucinati. Esatto. Grazie, Francesca. Buona giornata. Gli spai. Le grandi... Reramente per la... Grazie, dimmelo che spesso vuoi. 3-4... Sono tutti belli, da mamma. Sì, era molto nella parte, no? Ma era... Qual è la storia? Speriamo che il Milan, insomma, torni in Champions. Giuliano Palma, stiamo per andare a cena. Sono due di notte. Non sappiamo bene con chi. Occasioni migliori dopo partire. Ah, è vero, è vero, è vero. Sono nudi. Gatti, è proprio... Gatti danno la patente, no? Quando gli danno il testo d'abito, anche la patente. Tutti di un Roma-Torino, se ti ricorderai, qui la Roma aveva potestato moltissimo perché c'erano... Perché a Parma è successo quello che non ci sarebbe. Pintesi. Apriamo l'inquadratura, ecco. Come ti senti? Grazie, gatti. Mi sento benissimo, gatti. Meglio stare così o a bocca d'asse a prendere il sole a fare le lampade? Stasera molto meglio così. Stasera è promosso. Stasera faremo quale montatura preferite, pesce o... Io chiedo... Ma tu hai qualcosa sugli occhi? Che cos'hai? Una brillante...